Ladispoli e Cerveteri si preparano a vivere la settimana di Ferragosto sotto dei buoni auspici. Le spiagge di Ladispoli si prevede che saranno prese d'assalto e le prenotazioni in ristoranti e stabilimenti sono quasi sold out. Le visioni sono ottime perché abbiamo quasi raggiunto il limite delle prenotazioni. Sta andando benissimo, noi abbiamo la spiaggia libera sempre piena. Sì, un'invita a tutti quanti perché ci stiamo preparando tutti per fare un bel pranzo, una buona cena e un buon Ferragosto. L'alternativa al mare è la piscina. Qui a Cerveteri le previsioni sono molto positive. La settimana di Ferragosto si preannuncia veramente bollente, non solo per le temperature ma anche per la presenza qui al Tirziana Sporting Club Fabiana Streni. Abbiamo tantissime prenotazioni e abbiamo organizzato un 14 sera veramente scoppiettante con un bel menù di carne, con musica e bagno in notturna. Per le date di Ferragosto al momento siamo già al completo. C'è la campagna a tenere banco tra i sapori, la natura e l'enogastronomia e in questo agriturismo di Borgo San Martino non si rinuncia a percorsi di benessere. Sì, diciamo che è la cosa più gettonata della nostra struttura. Gli diamo magari un'acqua un po' più gradevole, a temperature più accettabili, però chi ci sceglie proprio per questo, per gli spazi privati, le zone private per la coppia, dove hanno la loro intimità, la loro privacy e nessuno li può disturbare. Voi mai avete scelto questo posto? Mi rilassassi due giorni, che sta tranquilli, sereni e in santa pace. E come si sta? Una favola, benissimo. Ciao!